Come collegare hard disk a smartphone e tablet Stando in giro 26 giorni, avremo un sacco di materiale, quali video e fotografie e quindi non sarà possibile mantenere soltanto sulle schedine da 32GB il nostro possesso quindi abbiamo pensato in che modo trasferirlo sull'hard disk da 2 pollici al mezzo L'ho trovato su vari forum e attraverso un po' di ricerche sono riuscito a trovare questo cavo che si chiama cavo OTG AY in cui c'è questa portina che serve per l'alimentazione E quindi cosa faremo? Prenderemo il nostro hard disk da 2 pollici al mezzo attaccheremo a una presa a questo OTG Allora, una volta collegato il nostro hard disk dovremo alimentarlo perché l'alimentazione del tab oppure del cellulare non sarà sufficiente per alimentarlo Quindi nei casi estremi avremo anche la possibilità di attaccarlo a una classica power bank oppure ad un alimentatore, è la porta micro USB Quindi una volta fatto questo vediamo che l'hard disk è in funzione Fatto questo non avremo altro che l'alimentazione che arriva da power bank o da alimentazione fino al nostro hard disk Avremo anche in questo caso, ho preso una porta USB in più che non fa mai male per magari attaccare un altro dispositivo Colleghiamo al nostro tab E con questa app che si chiama ES File Ce ne sono in giro tante, io ho trovato questa e mi sono trovato bene con questa Apriamo la nostra app Nella tendina andremo a vedere ciò che abbiamo Ovvero la nostra schedina, il nostro micro SD che è stato inserito all'interno del tab oppure anche del cellulare è indifferente E poi abbiamo la porta USB che è rilevata che è il nostro hard disk Qua ci chiede di consentire l'applicazione, noi vi diciamo ok e lui automaticamente mi legge quello che c'è all'interno dell'hard disk Consiglio, formatatelo prima, portate via il meglio dati possibili All'interno di questo io ho fatto una nostra cartella in cui metteremo tutte le fotografie giorno per giorno di modo che riusciamo a categorizzarle Se voglio quindi trasferire il file andrò nella schedina Extra Andrò a selezionare la cartella Per esempio seleziono questa cartella Qua sotto mi dice quello che posso fare, copiare, tagliare, elimina Faccio copia Una volta fatto questo torno indietro Vado a selezionare il mio hard disk E decido di metterla in questa cartella Attraverso incolla Lui fa così E' già processato e quindi ho trasferito quello che c'è nella mia schedina Direttamente nell'hard disk attraverso il tablet oppure anche il cellulare È la stessa cosa L'applicazione l'ho scaricata su tutte e due Su tutte e due in modo che abbiamo più sicurezza di avere più possibilità di gestire i nostri file Quindi è un metodo che ci permette di trasferire tutti questi file senza bisogno del notebook Giro del mondo solo con il bagaglio a mano Siamo quasi al termine del nostro viaggio intorno al mondo Con solo un bagaglio a mano Grazie a tutti